Bentornati, bentornati a tutti amici delle cessioni in questo inizio video, spero mi si veda decentemente Video registrato che non avrei mai voluto registrare onestamente Si parla della cessione, cioè si parla, in cui si parlerà della ormai avvenuta cessione ufficiale di Golden Eagle al Como Emotivamente sono sinceramente distrutto, molto provato perché ormai è una separazione netta Tra questa squadra, questa realtà, per cui io sinceramente per dinamiche societarie e per dinamiche di calciomercato e dinamiche di tifo Ho ribrezzo a pensarci, ve lo dico con grande onestà, è questa cosa, al di là dell'amore incondizionato che c'è e ci sarà per tutta la vita Ci sarà sempre, ed è lo stesso che poi mi fa stare molto male in queste situazioni di grande difficoltà E per lo stesso, insomma, per lo stesso è venuto a mancare di riva Tutte situazioni che mi hanno profondamente toccato Però ve lo dico onestamente, queste ripetute scelte folli, queste ripetute scelte inspiegabili Societarie di dirigenza e di proprietà e quant'altro Mi hanno sinceramente fatto a livello di infatuazione nel tifo molto distaccare Molto distaccare, che non vuol dire non essere tifoso Che non vuol dire non essere tifoso, ma vuol dire prendere coscienza del fatto che Ok, in questa piazza non si può parlare di calcio Non si fa calcio, né a livello con buona parte della tifoseria Non dico voi, ma noi siamo una piccolissima parte comunque Ma con altra grandissima parte della tifoseria Né con la società, né con altri membri alti del Cagliari E mi viene la rabbia barra delusione Barra, 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 barra Cioè, barra non so neanche cosa Proprio, scusate, mi sembra un po' la telecamera sporca E la puliamo con un cazzino Ok, questa è l'alta qualità Non è cambiato niente, è semplicemente la qualità bassa del video Ma abbiamo anche dei difetti Sono veramente molto molto amareggiato Molto amareggiato, ma perché? Perché è una scelta folle Una scelta sportivamente, calcisticamente folle Sotto ogni punto di vista Tu stai cedendo il tuo difensore A mio avviso per certi aspetti più forte Ma al di là della forte è sicuramente più esperto Sicuramente quello con più stagioni in Serie A In una difesa dove di esperienza c'è zero Perché i difensori esperti che hai preso Magari erano esperti in altri contesti Ma non sono esperti in Serie A E sono difensori per giunta scarsissimi Io non ho visto la partita Ma dagli Alliance che ho visto Lo dico sinceramente, non l'ho vista E dagli Alliance che ho visto Vietesca Mi conferma sempre di più Tutte le mie sicurezze e certezze E la sicurezza anche che avevo io Che la partita di Bologna Fosse stata completamente un episodio casuale Che può succedere ad un giocatore pagato 4 milioni e mezzo E un giocatore, a mio avviso, impresentabile A mio avviso, impresentabile A Zidiakos, vabbè, cioè Un meme, voglio dire Letteralmente un meme Io invito a riflettere su qualsiasi persona Che avesse sbeffeggiato Lico Giannis Ma Lico Giannis a confronto a Zidiakos Anche se moduli in ruoli diversi Era veramente il generale spartano alle Termopili C'è una roba a confronto E veramente era capricciante E vai a accedere Sicuramente il tuo giocatore più esperto Che ti ha permesso di uscire Da quel periodo dove Eri ultimo Con due punti in otto partite Perché? Perché Non si sa per quale motivo L'allenatore doveva provare a Zidiakos E Vietesca appena arrivati O su input societari O su altre cose Non lo so Io queste dinamiche chiaramente Non le posso conoscere Se ne va Se ne va Goldaniga Se ne va Goldaniga E se ne va anche appunto Le poche certezze difensive Che ha Valcagli Prima di queste ultime di nuovo Sperimenti di Vietesca e Compagnia Cantanti Dossena rimane Però appunto C'è la nostra certezza È basata su un giocatore Che a di là dell'anno scorso Di metà stagione dell'anno scorso Prima ha sempre giocato in Serie C Questo vuol dire che è scarso Vuol dire che non sia pronto Assolutamente no Perché come Dossena Anche lo stesso altare Era prontissimo Per un'altra stagione Da protagonista in Serie A Ma voglio dire È chiaro che su certe situazioni Per Dossena L'avere un Vietesca a fianco L'avere un Goldaniga a fianco Fa tutta la differenza del mondo Cambia dal giorno alla notte È una scelta sportivamente assurda Io non so per quanti soldi Sia andato via Penso pochi Penso che al Comulo paghino bene Cioè al di là del fatto Della scelta societaria Io penso che Goldaniga sia andato Perché a Ragneri non piace Goldaniga Detto molto sinceramente E qua arrivano poi anche La responsabilità dell'allenatore Perché Goldaniga da Ragneri È stato trattato molto male L'anno scorso in Serie B Ed è un giocatore che Parliamoci chiaro ragazzi Cioè Io questo Lo penso molto sinceramente Io penso che è un giocatore Tecnicamente Non assolutamente Celso Cioè ve lo dico Non è che sia il problema Della sostituzione tecnica Cioè sostituire Tecnicamente questi giocatori Che siano Altare Che sia Goldaniga È gente che si può sostituire È gente forte Ma non è gente Voglio dire Che ti fa Ma anche perché forse Non sono quelli ruoli In cui bisogna fare la differenza Comunque È un giocatore Che però io vedo Da media serie Via tranquilla Cioè da un dodicesimo posto Dal decimo posto Magari l'expload di squadra E puoi arrivare A non so Un ottavo posto Con un Goldaniga Per dire Ok Un'expload di squadra In generale Ma non è sicuramente Un giocatore che merita Di stare in panchina In Serie B Questa è una cosa Che sicuramente Lui l'anno scorso ha patito Quest'anno comunque Il fatto che arrivino Due nuovi giocatori Che fanno pietà E venga messo fuori Dopo la prima partita Col Torino Dove è l'unica Dove non prendi gol Fa riflettere Fa riflettere Comunque ragazzi Cioè al di là dei calciatori Voi dovete pensare Che questi sono esseri umani Come noi Cioè Ragionate voi Cercate di fare Un po' di introspezione E mettervi Facendo questa introspezione Verso i vostri sentimenti Cercare di capire Come In modo empatico Come si possa essere sentita Quell'altra persona In quella circostanza Cioè voi immaginatevi Fai una buonissima partita Col Torino Difesa impeccabile E quant'altro Arrivano questi altri due Che non sanno parlare Non sanno comunicare Non sanno come funziona La Serie A Tu sei il più esperto In difesa e viene messo fuori Ah E poi viene richiamato in causa E poi quando Vietesca Lo vogliono rimettere Lo rimettono di nuovo E lui va fuori Cioè Sono comunque dinamiche Che non mi sono mai piaciute È una follia A livello sportivo Perché a gennaio Non puoi fare Quest'operazione D'estate La puoi fare A gennaio Non la puoi fare A gennaio È veramente Un'idiozia Un'idiozia sportiva Ma Con Con rari 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 precedenti Cioè Ripeto Forse appunto Mi stessero parlando Di un Luvumbo Che se ne va a gennaio Di fronte a un'offerta Di 30 milioni Cioè vi dico Ok Non lo venderei a gennaio Ma È chiaro che Ti arriva oggi Un'offerta di 30 milioni Per Luvumbo È chiaro che Una squadra come il Cagliari Li prende Li accetta Molto probabilmente No? Cioè Anzi sicuramente Ma in questo caso Cioè Siamo di fronte A cifre Molto probabilmente Ridicole Perché era forse in scadenza Non lo so E Di fronte ad un giocatore Che comunque era importante Che comunque era importante Ma ripeto L'aspetto Non è l'aspetto qualitativo Che andremo a perdere Soprattutto Cioè Allora Oddio L'aspetto qualitativo In questo caso specifico Lo perdi anche Perché le alternative Non esistono Perché le alternative Sono Azidiaco Svietesca E Obert Cioè sono tre alternative Del valore Del peso specifico Bassissime Cioè Obert con tutto il bene È un giocatore Che comunque Si è molto fermato Nel processo di evoluzione Perché? Perché è stato gestito Molto male Anche qui Io non voglio dare colpa A nessuno Perché A Ragnieri La squadra che è stata Data da Ragnieri È pessima È terribile Ha sortito in modo Tremendo Tempistiche di mercato Tremende E Bonato è un villain Del canale Ci è ceduto Altare Lella Culfaridis Adesso Goldaniga Ci sta distruggendo Manca solo Zappa E poi io chiudo Tutto Basta Però dicevo Di cosa stavamo parlando Non mi ricordo Non è tanto L'aspetto tecnico Obert appunto Anche qua ha gestito male Ma non è stata Non voglio dare colpa a nessuno Però Obert Ha stato gestito molto male Il suo percorso Si è molto bloccato Ed era un giocatore Molto E valigero Molto Molto semplicistico Ok? Non è un giocatore Di quelli che prende Spazza A grinta Non mi è mai sembrato Quanto meno Vietesca Voglio dire Io Non parlo Non parlo Di nuovo Un bacio accademico A chi dopo il Bologna Lo dipingeva come un fenomeno Cioè una partita buona su 20 4 milioni e mezzo 27 anni Una partita su 20 Ma è un fenomeno Vabbè E E a Zidiakos Queste sono le alternative Si va a cedere Goldaniga Ora Arriverà qualcuno Punto di domanda Io propongo un profilo cinese Che non ha mai giocato In nessuna Delle lighe Europee Mi sembra un profilo Adattissimo Esperto Magari lo prendiamo di 27 28 anni A 250 mila euro Dal campionato cinese E va bene Che ne dici Bonato Tanto in linea Più o meno Con i tuoi gusti Ma io sono veramente 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 sconvolto Cioè sinceramente Non riesco a trovare Una logica Una 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 qualsiasi cosa Dietro questa Questa operazione Spiace Spiace Ma ripeto Cioè Il processo di distruzione Soprattutto Non è l'aspetto tecnico In questo caso Sì anche Perché appunto Quelli che subentrano Sono scarsi Ma è l'aspetto mentale Finalmente ho finito il discorso Mi perdevo costantemente Perché sono stanco E indignato Ma è l'aspetto mentale L'aspetto di gruppo L'aspetto del gruppo Della promozione Che si è completamente distrutto Con questa ulteriore eccessione Io raramente ho visto Post Condivisioni Quando se ne va Un giocatore del Cagliari E ne ho viste Diverse Diverse interazioni Da parte di diversi Giocatori del Cagliari Io me lo ricordo I festeggiamenti Post promozione Il primo che festeggiava Fuori lo stadio Che sta Messo sulle spalle La sua ragazza Che ancora un po' Smutandava Cioè Era Goldaniga È un capopopolo La partita fatta a Napoli È una partita Che dipende solo ed esclusivamente Da Goldaniga Ma come fa Come fa il Cagliari A giocare Le condivisioni Le relazioni E era un giocatore Centrale Di questa squadra Cioè se uno Oggi mi veniva A chiedere Chi è il capitano Vabbè Adesso per questione Di enfatizzazione Robben Handez Uno deve dire Ma per me Goldaniga Cioè Di questo ammasso Di questa cozzaglia Di giocatori Io non lo so Adesso arriverà Un altro difensore Magari Che non gioca da dieci anni Vedi Palomino Vedi Kunvulla Ma questo è quanto Ma dove siamo arrivati Ma dove siamo finiti Un bacione Ciao